Peugeot presenta una transizione energetica qui a Ginevra e c'è una dicitura qui dietro, Unboring the Future. Cos'è? La transizione energetica è un passaggio epocale per tutta l'industria dell'automotive e Peugeot è pronta ad affrontare questa evoluzione, questa vera rivoluzione energetica con diverse novità importantissime. Noi abbiamo coniato Unboring the Future per esemplificare quello che sarà il nostro passaggio verso l'elettrificazione di diversi nostri modelli con tre concetti, quello di serenità perché Peugeot ha una storia lunga, oltre 200 anni, abbiamo passato diverse rivoluzioni nel mondo dell'auto, abbiamo innovato con tecnologie davvero importanti nel mondo dell'automobile e quindi anche la transizione energetica non ci spaventa affatto e l'affrontiamo in maniera molto serena. Piacere di guida perché piacere di guida fa parte del nostro DNA da sempre e anche l'elettrificazione dei nostri modelli del futuro non comporterà un cambiamento di quello che è la percezione delle emozioni che vogliamo trasmettere ai clienti, ma anche semplicità perché permetteremo ai clienti di scegliere primariamente la vettura e poi in funzione delle esigenze e delle aspirazioni la tipologia di alimentazione, benzina, diesel o anche elettrico o plug-in hybrid a seconda dei segmenti. Quindi è un concetto davvero molto importante che viene declinato qui a Ginevra 2019 con due importanti anteprime mondiali. La prima di queste è sicuramente la 208, la nuova 208, la seconda generazione del modello apprezzatissimo anche in Italia, venduto in oltre 2 milioni di esemplari a livello mondiale, 220 mila, anzi oltre 220 mila esemplari in Italia, che qui viene esposta a Ginevra nell'ultima evoluzione, un progetto completamente nuovo che parte da una piattaforma totalmente rinnovata, la CMP, Common Modular Platform, che per la prima volta in assoluto permette anche la scelta della versione 100% elettrica, quindi una novità davvero molto importante in casa Peugeot. Un modello che poi porta al debutto una importante novità anche sotto il punto di vista del Peugeot iCockpit. Se vi ricordate nel 2012 la 208 di passata generazione è stata la prima Peugeot a portare questa tecnologia nel mercato mondiale. La nuova 208 porta al debutto l'iCockpit 3D, tridimensionale, quindi con due diversi livelli di lettura delle informazioni, per evolvere ancora più quello che è il concetto unico rivoluzionario dell'iCockpit. Piacere di guida, sicurezza e anche comfort. Tanta tecnologia che viene anche declinata con pacchetti di sistemi di assistenza alla guida davvero avanzatissimi, i famosi ADAS, ma qui soprattutto arriviamo al livello di guida autonoma di tipo 2, un elemento, un raggiungimento, un traguardo molto importante in un segmento, che è il segmento B, in cui si va a inserire il nuovo 208. Poi l'altra novità molto importante a Ginevra, l'anteprima mondiale, è di 508, Peugeot Sport Engineered. È un concept che fa vedere, prefigura quello che sarà l'ibrido sportivo per Peugeot. La sportività verrà declinata attraverso diverse alimentazioni molto innovative. L'ibrido plug-in è l'evoluzione massima di quello che è il vecchio concetto di ibrido, perché il full hybrid ormai è una tecnologia già consolidata nel mercato, ma rappresenta una sorta di passato. Il plug-in hybrid è lo step ulteriore di questa tecnologia, che permette di coniugare il meglio dell'elettrico con i vantaggi dell'ibrido vero. Quindi il concept 508 Peugeot Sport è un prototipo che fa vedere quello che sarà la Peugeot sportiva del futuro, con 400 cavalli di potenza, sono tre motori, uno termico-benzina, due elettrici, 400 cavalli complessivi, 4x4, 0 a 100 in 4,3 secondi, la possibilità anche di fare 45 km in modalità 100% elettrica. Davvero una vettura molto molto sportiva, quindi due anteprime mondiali molto interessanti e poi soprattutto finalmente la gamma plug-in hybrid vera, acquistabile in concessionaria verso fine anno, quindi 3.800 plug-in hybrid 4x4, 300 cavalli, 0 a 100 in 6 secondi e mezzo. Una grande tecnologia che permetterà grandi libertà in termini di modalità di guida, con diverse tipologie di impostazioni del power training plug-in hybrid, ma anche 508 e 508 station wagon, plug-in hybrid anche in questo caso, trazione anteriore, 225 cavalli, davvero una tecnologia molto concreta, molto reale, per declinare al meglio quello che è il concetto di transizione energetica. I tempi cambiano e anche cambia il modo di produrre le automobili, perché adesso in una catena di montaggio possono uscire benzina, diesel, plug-in hybrid oppure elettrici 100%. Sì, è molto importante a livello produttivo ideare una piattaforma, un telaio, le componenti che si adattino a diverse tipologie di energia, quindi il benzina, il diesel, ma anche l'elettrico. La 208 nuova, come dicevo, adotta per la prima volta per Peugeot la piattaforma CMP, una piattaforma che permette appunto di adattare diverse tipologie di alimentazioni, sfruttando quelli che sono i spazi liberi lasciati magari dalle componenti del motore diesel o benzina che sia, per stoccare le varie celle delle batterie. Quindi all'interno del pianale è stato sfruttato al massimo lo spazio per allocare il massimo numero e quantitativo di batterie per dare la trazione elettrica a un modello che rappresenterà davvero i volumi importanti anche in Italia e che ci attendiamo con grande impazienza. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie.